Baby Ganga, violente, aggressioni, vasta operazione della polizia in tutta Italia, decine di arresti e denunce in Veneto coinvolte Padova, Verone e Rovigo, denunciato anche il trapper Baby Touche. Spaccata nel cuore di Treviso nella notte banditi in azione con un'auto usata come ariete, vetrata sfondata e razzia di capi di abbigliamento costosi. A Mestre invece torna la paura dei commercianti alle prese con le spaccate, con i tombini, tentato assalto a due passi dal centro all'appello dei negozianti. Si impossessava del denaro degli anziani che aveva in cura amministratrice di sostegno arrestata dalla polizia di Vicenza dopo la condanna definitiva. Tragedia sul lavoro a Baldobiadene, 74enne colpito da un ramo sporgente mentre si trova su un trattorino rasa erba, l'uomo cade e muore. Le parole del sindaco di centrosinistra di Padova a favore di Zaia aprono un ulteriore fronte in una settimana tesissima e il segretario Veneto del Carroccio propone a Giordani un'asse sul terzo mandato. Inaugurata a Padova la mostra che da Monet a Matisse celebra il modernismo e la Francia con opere che arrivano dalla collezione del Bruching Museum. Ben trovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna 3, la cronaca in apertura di questa edizione regionale dei nostri telegiornali con l'operazione della Polizia di Stato che ha portato in tutta Italia 40 arresti, oltre 70 le denunce. Un'operazione contro le baby gang e le gang giovanili in generale coinvolte anche le province di Verona, Rovigo e Padova con alcuni arresti. Indagato anche il trapper Baby Touche, un volto noto nel Padovano. Violenza, armi e droga, protagonisti giovanissimi, 40 persone arrestate, molte di questi minorenni, oltre 70 denunciati nella maxi operazione a livello nazionale contro le gang di giovani. Anche a Padova, teatro di alcuni episodi di aggressioni e violenza, ci sono stati 6 denunciati, 3 sono minori e 4 invece sono stati arrestati per spaccio di droga. L'episodio più violento è avvenuto lo scorso 11 giugno all'esterno del Pride Village dove è avvenuta una rissa tra ventenni coinvolti anche il trapper Baby Touche e i suoi tre fan, tutti denunciati dalla squadra mobile di Padova che ha ricostruito la notte di violenza tra i due gruppi rivali. A terra, feriti a colpi di tirapugni e calci, 5 ventenni, accecati prima con spai urticanti e poi brutalmente aggrediti. Uno di loro ha perso conoscenza a causa di un colpo in testa. I poliziotti sono arrivati a loro grazie alle testimonianze dei presenti alla rissa che hanno descritto con precisione l'abbigliamento tipico dei Maranza, riconoscendoli anche in alcuni video postati sui social allo stesso giorno dell'aggressione. Durante le perquisizioni uno degli indagati è stato trovato con alcuni grammi di hashish. Un altro episodio di violenza è avvenuto lo scorso luglio a Padova, invece come protagonista una 19enne indagata per rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di una 16enne. La minorenna è stata presa a calci, pugni, spintoni, strattonata per i capelli e derubata di portafogli e cellulari. Dopo quell'aggressione non era uscita di casa per giorni. Durante i controlli della polizia nei luoghi di aggregazione degli adolescenti sono stati arrestati. Altri tre stranieri, un italiano per detenzione, spaccio di droga e un altro è stato denunciato. A Treviso ora per una spaccata in pieno centro. Questa mattina alle 5.30 ho scattato l'alarme che è collegato direttamente con il mio titolare e ovviamente è disceso subito e ci siamo resi conto di quello che è successo. Sono entrati probabilmente con un mezzo pesante. L'auto come un ariete entra in retromarcia e sfonda la vetrina del negozio Loschi. Attacco al cuore del centro storico di Treviso. Sono le 5 del mattino via Martiri della Libertà e Deserta. A percorrerla solo un'auto di piccola cilindrata che davanti al negozio innesta la retro e dà gas fino a spaccare una vetrata antisfondamento e il muro in cartongesso. E' un attimo, scatta l'allarme, partono i fumogeni ma i ladri hanno il tempo di prendere diversi accessori esposti all'ingresso e razziare due vetrine per poi darsi alla fuga. Sono qui anch'io da 28 anni ed è la prima volta che succede. Abbiamo avuto piccoli furti all'interno del negozio come penso succeda. Sotto sciocche le dipendenti. Un colpo pianificato a tavolino messo a segno in pochi secondi. i ladri hanno portato via i pezzi più costosi. Se credo che il danno sia piuttosto importante, ancora non è quantificabile. Dipendenti al lavoro già questa mattina per sistemare il negozio che ha aperto regolarmente al pomeriggio mentre del furto si stanno già occupando i carabinieri della compagna di Treviso. L'auto è risultata rubata poco prima del colpo. Sgomento tra i passanti, il colpo al negozio Loschi per la modalità efferata sembra aver toccato il cuore di tanti diversi. i clienti è entrati comunque in negozio, anche se chiuso, per portare la loro solidarietà. Sento che ho paura, cioè a parte l'agitazione del momento che comunque ci fa stare male c'è questo timore ora che possa succedere. Qui a Treviso ancora sembrava un posto tranquillo, in realtà sta succedendo anche qui. Da Treviso a Mestre il copione non cambia. Il vetro del negozio è preso a colpi di tombino. L'allarme è lanciato da un residente svegliatosi di soprassalto in piena notte dal forte botto del tombino in ghisa scaraventato violentemente contro una delle vetrine anti sfondamento del negozio. Ennesimo tentativo di spaccata nel cuore di Mestre, nel negozio di arredi e accessori per la casa esposti. Il tentato colpo nella notte tra mercoledì e giovedì in via Manin. Probabilmente sono semplicemente degli sbandati che cercano di racimolare qualche soldo e cercano di entrare. Fortunatamente la vetrina ha retto e così non ci sono stati ulteriori danni per nessuno. Non sono entrati? Non hanno preso niente? No, no, no. Però tanti i danni diceva? Eh beh sì, i danni e le difficoltà in questo periodo non ci voleva. Danni per diverse migliaia di euro. Il costo della riparazione denuncia la titolare del negozio che ha già presentato denuncia contro i gnoti, attività che si trova giusto dietro Piazza Ferretto e a due passi anche dal municipio della città siamo nel cuore di Mestre eppure mancano le telecamere di videosorveglianza del comune ad eccezione dell'unica presente e dedicata al solo controllo della ZTL. Scatta il frame solo per dare le multe, in sostanza sì. Infatti abbiamo chiesto se è possibile di installarne una per quello che può servire ma quantomeno come deterrente con altro scopo. L'attentata incursione dell'altra sera soltanto l'ultima delle tantissime andate invece a segno a discapito delle attività commerciali dell'aria. La sera qui è buio pesto perché l'illuminazione è pressoché assente. La richiesta appello per chiedere più illuminazione a Cafarsetti che debbora esposti rivolge anche i negozianti per suo per poter fare insieme squadra contro la malavita. Le spese è vero sono tante, spesso si è tentati la sera quando si chiude di chiudere tutto, invece lasciare accesa qualche lucio in vetrina oltre che tra virgolette essere così una cosa invitante per le persone a passeggio sicuramente aiuta ad illuminare strade a volte troppo poco illuminate come questa. Si impossessava del denaro degli anziani che aveva in cura, per questo una donna vicentina è stata arrestata dalla polizia. Dopo la condanna definitiva è stata trasferita nella casa circondariale di Montorio Veronese dove dovrà scontare la pena definitiva per il reato di peculato di 4 anni e 6 mesi di reclusione. Protagonista della vicenda è una cittadina italiana di 60 anni che a più riprese in luoghi diversi si è impossessata del denaro degli anziani che aveva in cura. Ricoprendo il ruolo di amministratore di sostegno, la donna entrava a far parte di varie associazioni di volontariato sparse in numerose città del nord Italia e una volta ricevuto l'incarico del tribunale del luogo effettuava una serie di prelievi di denaro utilizzando il bancomat intestato alla persona che avrebbe dovuto tutelare. La donna è risultata coinvolta in questi abusi a Trento, Trieste, Vicenza, Brescia, Padova, La Spezia e Mantova. La prima denuncia risale al 2016 nella provincia di Pesaro. Le varie condanne si sono succedute nel tempo fino a giungere alla sentenza di cumulo definitivo della pena. Tragedia nel primo pomeriggio a Valdobiadene, ritorniamo nel Trevigiano dove una 74enne di Pederoba Adriano Panazzolo è morto a causa delle gravi lesioni riportate al torace e alla in seguito un incidente avvenuto nel giardino di una villa in via Roma. L'uomo stava eseguendo dei lavori di giardinaggio e si trovava alla guida di un piccolo trattorino tagliaerba. Forse per una distrazione il pensionato è finito contro un ramo sporgente che lo ha colpito al collo uccidendolo sul colpo. Tutti i dettagli di questa ennesima tragedia sul lavoro nel telegiornale di Treviso. E potrebbe concludersi con un patteggiamento a due anni di reclusione e sospensione della pena il processo a carico di Diego Feltrina, 42 anni di Longarone, accusato di aver provocato la morte del figlio Nicolò il 28 luglio del 2022 per ingestione di Ascis. Sarebbe questa la proposta sulla quale si prefigura un'intesa tra la Procura della Repubblica di Belluno e difensori dell'uomo accusato di omicidio colposo come conseguenza di un altro reato. In base a una ricostruzione verosimile Feltrina avrebbe fatto ingerire al figlio della Ragù con tracce di Ascis allo scopo di cercare di addormentarlo. L'eventuale rito alternativo sarà stabilito nella prossima seduta dell'udienza preliminare fissata l'11 gennaio del prossimo anno. La politica ora con l'endorsement davvero inaspettato arrivato a Luca Zaia per il terzo mandato da parte del sindaco di Padova area centrosinistra Sergio Giordani. Si apre un fronte molto polemico al termine di una settimana davvero tesa soprattutto in casa centrodestra. Ne vedremo delle belle, assicura Roberto Marcato. Alberto Stefani propone allo stesso Giordani un'asse, un'asse politico trasversale proprio sul terzo mandato. Zaia resta, questo sì, perché devo dirvi che per me è importante come precedente, come referente. L'endorsement che non ti aspetti ha aperto un varco nella politica regionale facendo saltare sulla sedia lo stesso Arturo Lorenzoni, già vice di Giordani e oggi speaker dell'opposizione a Zaia in consiglio regionale. Estere fatto, spero Giordani corregga il tiro, dice Lorenzoni, nei minuti in cui il governatore ringrazia sempre Giordani per l'onestà intellettuale. Caustico sul sindaco di Padova Roberto Marcato, ecumenico Alberto Stefani. È la maturazione dell'uomo politico che si rende conto finalmente di essere dalla parte sbagliata e quindi insomma con questa presa di coscienza ovviamente dichiara qual è la sua vera natura che è quella giusta. Insomma se lo dice anche Giordani magari si mette d'accordo anche qualche altro pezzo di centrodestra e votiamo questo terzo mandato, quarto mandato e magari Zaia sarà nuovamente il nostro presidente. Io ne sarei orgoglioso, ne sarei felice e credo che sia anche negli interessi dei Veneti. Il supporto a Zaia di Giordani arriva al termine di una settimana al veleno tra gli alleati del centrodestra proprio sul tema del terzo mandato Contosi che ha stoppato l'ipotesi Zaia-Terra. Il gioco delle parti, dice Marcato. È stata una settimana che racconta anche una certa vivacità pre-campagna elettorale delle europee, d'altronde lì ogni partito si gioca la sua partita. È inevitabile che sia così e questo è solo l'antipasto, ne vedremo davvero delle belle, bisogna avere nervi saldi. Ci sono poi i temi della politica internazionale con il via libera dei negoziati per l'adesione dell'Ucraina nell'Unione Europea. Ne ha parlato questa mattina ospite di Focus Tg del nostro direttore Luigi Bacialli, il filosofo Massimo Cacciari. Come si procede all'allargamento ulteriore dell'Europa? Mica si potrà procedere soltanto sulla base di esigenze strategico-militari. Bisognerà pure che noi europei diciamo anche diciamo pure europei e occidentali siamo garantiti che all'interno dell'Europa arrivano paesi che danno tutte le alcune elementari garanzie su certi piani. Per esempio, prima di tutto il trattamento delle minoranze. Voglio dire, bisognerà pure essere certi che l'allargamento avviene secondo criteri di carattere culturale, politico, sociale. Mica si tratterà soltanto di verificare alcuni parametri economici e poi corrispondere a determinate anche legittimissime esigenze di carattere di sicurezza militare, geopolitico. Fintanto che non si riformano le istituzioni europee e fintanto che nel Consiglio le cose continuano a funzionare all'unanimità, diventa sempre più difficile decidere su questioni geopolitiche allargandosi continuamente e senza avere né le riforme delle istituzioni e tantomeno avere delle serie garanzie per quanto riguarda alcuni principi fondamentali. È una grande questione questa, che è culturale, politica, che l'Europa sta affrontando alla Garibaldina sulla base di pressioni che ci sono enormi, certo, ma sulla base di pressioni del momento, sulla base di situazioni molto determinate, mentre dovremmo ragionare a questo proposito proprio sul piano strategico, perché una volta che entri nell'Unione, l'Unione speriamo durerà decenni, secoli, ben al di là della situazione contingente e drammatica che ci troviamo oggi ad affrontare per quanto riguarda l'Ucraina. Pronti per ritornare a Padova, ma subito dopo la pubblicità, fra poco. Di nuovo in diretta per ritornare, come dicevamo, a Padova e aprire un importante capitolo dedicato all'arte, perché è stata presentata e inaugurata questa mattina a Palazzo Zabarella, la mostra da Monet Amatis. Il secolo più affascinante della storia dell'arte è raccontato attraverso le opere dei maestri che all'epoca erano considerati rivoluzionari e che per primi si erano allontanati dalle regole dell'Accademia. La mostra da Monet Amatis, French Motors 1850-1950, inaugurata a Palazzo Zabarella a Padova, è un viaggio che celebra il modernismo e la Francia con opere che arrivano dalla collezione del Brooklyn Museum. È una grande occasione, è una grande mostra, 60 opere che arrivano per la prima volta in Europa, quindi è difficile da vedere. Peraltro di questo grande museo, che è il Brooklyn, è uno dei più grandi musei del mondo, e quindi è una grande opportunità per il pubblico di vedere una storia diversa. I colori dei paesaggi di Monet, Pissarro, Corot, i ritratti di Matisse e dei Fauve, il simbolismo di Odillon Redon, 59 opere in un percorso diviso in quattro sezioni, il paesaggio, la natura morta, il ritratto e il nudo. È un percorso fatto di luci e di colori, che attraversa l'arte francese dalla svolta realista di Corot et Courbet, che arriva poi a un novecento che conosce la pittura del sogno di Pierre Bonnard, la scultura primordiale di Alexander Arcipenko, l'arte meccanica di Fernand Leger. È un percorso quindi davvero illuminante, perché mette in scena tutto ciò che è accaduto sul palcoscenico di Parigi nel corso di un secolo, che ha segnato le sorti dell'arte europea. La mostra, attesa a Padova, resterà aperta a Palazzo Zabarella fino al 12 maggio 2024. Dal Veneto è tutto anche per questa edizione, vi lascio alle previsioni del tempo. Buona serata. L'Unix Star, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali. Bentrovati al meteo. Venti freddi sull'Italia, ma la pressione è in deciso aumento. Sarà un weekend di bel tempo. Il dettaglio di sabato 16 dicembre. Sul Veneto condizioni di stabilità, con cielo in prevalenza sereno, iniziali foschie e nebbie in pianura, specie sulle zone interne e anche in qualche fondovalle, ma in progressivo dissolvimento. Temperature in lieve calo, minime tra meno 2 e 1 grado, massime tra 5 e 7 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso ampio soleggiamento, il cielo sarà sereno. Al mattino avremo locali nubi basse. Temperature minime tra meno 1 e 3 gradi, massime sui 7-10 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove il cielo sarà sereno o al massimo velato, con ottima visibilità. Temperature minime tra meno 3 e 2 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo per ora è tutto. Vi auguro un buon proseguimento in nostra compagnia. L'UnicStar, le uniche pagliette antibatteriche in commercio, prodotte anche per i marchi più importanti, sia nazionali che internazionali.